Riccata ai personaggi Lucani illustri, Cinzia Grenci e il giornalista Leonardo Pisani ci parlano oggi di un pugile, guardate un po'. Stamattina facciamo un po' di pugilato con Leonardo Pisani perché rievochiamo la figura di uno sportivo davvero forse troppo trascurato, dimenticato, Young Corbett III, che in realtà si chiamava Raffaele Giordano ed era nato a Rio Nero. Nel 1905, nel settembre del 1905, pugile trascurato. Che pure invece diventò campione del mondo, no? Due volte campione del mondo, nei paesi Welter il 22 febbraio del 1933 e nei paesi medi sempre il 22 febbraio del 1938. Gli cambiano il nome proprio perché era anche proprio difficile la pronuncia in americano. Questo sì, lui inizia come Ralf Giordano, ma dopo di che l'Italia non aveva, quando lui inizia, non aveva grandi campioni, anzi neanche un campionato europeo. Quindi era preferibile adottare un nome irlandese, scozzese, dove era nato il pugilato e non italiano perché non attirava. Young Corbett II era stato anche lui un pugile famoso. Lui si dedica a tante attività, alla produzione del vino, fa anche gli istituti di educazione fisica. A Fresno sono più di 300-400 originali della zona del Vulture. E magari producono anche un po' di vino probabilmente. Posso dire una cosa, lui è nella storia del pugilato per tre motivi. E' il primo mancino, guardia destra, a diventare campione mondiale dei Pesiguelter quando li mettevano in guardia no smart. E' il primo pugile di Fresno, se non l'unico, a essere campione mondiale. Ed è l'unico lucano nato in base a essere campione mondiale. Ed è morto nel 1993 ad Auberry. E' la città di Fresno, nella quale aveva vissuto questa famosa statua di Clement Renzi. Un po' come quella di Rocchi, no? Un po' come quella di Rocchi. A Filadelfia. Bene, grazie come sempre a Leonardo Pisani e buona giornata.